anto ieri sera ho visto un cartone animato bellissimo c'erano i gattini era pieno di gattini ma come si chiamava si chiamava gattinis e quindi tipo era bellissimo un'atmosfera rilassatissima tutto tranquillo questi paesaggi queste colline verdi con questi gatti che si volevano tutti bene insomma si facevano tutte queste cose tipiche che fanno i gatti cioè le fusa gattizzavano in giro facevano le fusa le palle di pelo le vomitavano così no però si stava troppo bene era un ambiente un po falso era un ambiente un po falso ma sicuramente non c'era violenza 30 secondi per metabolizzare l'aggancio l'aggancio ma la violenza del bolo del vomito dei gatti quella forse era l'immagine più violenta che potevi vedere in questa cosa perché mi dici questo perché oggi siamo qui per parlare di violenza e a raccontarcelo sono i nostri ospiti per cui facciamo un nostro super finto applauso a bestia per i nostri ospiti che sono daniele vasari e andrea spada ti devo fare le fuse no se vuoi posso iniziare subito con due fuse visto che si parla di violenza possiamo iniziare un po in qualche modo più affettuoso non so vuoi provare a fare le fuse facciamo anche insieme tutti e quattro facciamo l'effetto fusa 3 2 1 c'era qualcuno però che ha ringhiato chi è che ringhiato c'era il gatto idrofogo avevo un po di scusa falla da solo 3 2 1 no questo no questo volete presentarvi incomincio io sì io sono andrea spada allora io rappresento l'associazione delfi di forlì che è nata nel 1996 e che ha sempre avuto nei suoi quasi 30 anni di attività l'obiettivo di aiutare le persone a crescere migliorare attraverso vari tipi di attività nel 2007 2008 in questa logica qui abbiamo incominciato ad occuparci di un settore un pochettino particolare era quello di creare una situazione migliore per quanto riguardava le persone che agiscono violenza nei confronti di altri soprattutto chiaramente uomini che maltrattano le donne quindi abbiamo creato un servizio apposito che si chiama ctm cioè centro trattamento maltrattante è stato uno dei primissimi centri a livello nazionale diciamo il primo romagnolo e uno dei primi a livello nazionale in quanto la prima statistica del 2012 2013 annoverava 14 15 centri a livello nazionale a livello di tutto il territorio nazionale noi siamo stati uno dei primi ad occuparci di questo di questo fenomeno qui come è nato nel senso dove avete preso l'urgenza la domanda a questo forse passiamo la palla a lui nel senso che io nel 2008 2009 sono come appunto dicevo sono psicologo psicoterapeuta anch'io all'epoca come del resto adesso eh lavoro lavoro per dentro un carcere di reggio emilia è successo che in quel periodo lì eh si era attivato a livello regionale una formazione sul tema della violenza di genere a questo punto io ho iniziato ho detto comincio a fare questo tipo di formazione perché si dovevano muovere i primi passi sul tema della violenza di genere l'ipotesi era quella di aprire in italia le miglia romagna in particolare dei centri per l'uomo maltrattante non tutti i centri sono stati aperti in emilia romagna in quel periodo il primo è nato proprio qui a modena ma dal servizio pubblico visto che avevo questa formazione ho pensato che sarebbe stato interessante proporlo nel privato noi su forlì e quindi ne ho parlato con andrea ne abbiamo parlato con un altro nostro socio e qui se volete vi racconto un aneddoto molto interessante perché il nostro centro si chiama centro trattamento maltrattanti a questo punto io lo propongo all'altro socio che è un socio più anziano senior gli faccio il mio pistolotto a un certo punto questo nostro collega si accende la pipa e dice centri per uomini maltrattati ci sta interessante detto no aspetta stefano parlo di uomini maltrattanti e lui mi guarda un po sempre strofinandosi la barba beh potrebbe funzionare lo stesso fino ad oggi abbiamo iniziato a prendere in carico persone che agiscono violenza in particolare in questo contesto che agiscono violenza entro le mura domestiche ma anche esterne che ci arrivano da più disparate situazioni come noi diciamo sempre questi personaggi arrivano spintaneamente a noi perché la motivazione è relativa oggi come oggi invece essendoci una norma il codice rosso prevede un percorso obbligatorio al fine di poter ottenere anche poi una sospensione pena ma il nostro percorso deve durare quantomeno un anno all'interno dei nostri centri per questo voi siete i formatori no che stanno preparando le persone che conducono i gruppi su modena centri pubblici e centri privati noi abbiamo formato molti di quelli del privato sociale proprio in questo caso noi a moderno sono quelli del chase esatto in questo caso il chase con che tipo di stigma se c'è stato al momento dell'apertura avete dovuto ah questa è una bella domanda all'epoca quando abbiamo incominciato la cosa era un pochettino particolare perché ci ponevamo con un servizio che era nuovo non conosciuto anche molto osteggiato 15 anni fa adesso non ricordo neanche bene di preciso comunque eravamo proprio all'inizio della nostra attività vengo chiamato per partecipare a una conferenza dove si deve parlare di violenza sulle donne e quindi di azioni che vengono fatte chiamano la prima persona che si occupa di questa cosa e tutti applaudono quando sale sul sul palco chiamano un altro tutti applaudire chiamano me che si occupa di uomini maltrattanti nessuno applaudire io salgo sul palco con un gelo totale adesso fortunatamente le cose non sono più così perché ci si è resi conto dell'utilità interessante tutti con la maglietta che ho scritto i love violence no la legge codice rosso la legge appunto quello che viene definito chiamato codice rosso è una condizione più stringente normativa rispetto alla tematica appunto inserisce quelli che sono i percorsi obbligatori per da fare per chi ha una connotazione di reato di questo tipo la motivazione a volte molto bassa quando arrivano e sono obbligati decade quasi completamente però almeno riusciamo con questa indicazione a fare dei percorsi che forse queste persone non avrebbero mai fatto quindi un percorso che gli potrebbe aiutare da negancio per iniziare a una vera revisione critica recuperare o quantomeno di far interrompere alla persona un ciclo di violenza che si è innescato perché la considerazione che facciamo sempre è che la violenza si interrompe quando smette chi la fa un uomo poi si è lasciato dalla propria compagna giustamente dopo anni di soprusi poi ne trova un'altra e fa e ripete la stessa identificazione i centri come il nostro prima o poi speriamo che chiudano perché cominciamo anche a lavorare su quella che è la prevenzione cominciamo a lavorare su quello che dovrebbe essere prima di arrivare al fenomeno della violenza cominciare a lavorare sugli stereotipi cominciare a lavorare sull'uomo sui ragazzi che a loro volta diventeranno persone forse speriamo migliori per evitare che succedano questi percorsi è una forma di prevenzione assoluta alla parte che poi potrebbe essere l'ESA e che attualmente ne è l'ESA quindi in questo caso le donne mi sembra che tutto questo percorso vada in quella direzione vada nella tutela usando altre strade altri percorsi ma quello è l'obiettivo è un elemento fondamentale noi lavoriamo con i maltrattanti ma l'obiettivo che deriva comunque dalla convenzione di Istanbul e tutta una serie di normative ad essa collegate un centro per uomini maltrattanti ha l'obiettivo della salvaguardia della donna questo è un elemento fondamentale partecipare a un gruppo per uomini maltrattanti in soldoni cosa significa? un percorso sia individuale che di gruppo prevede alcuni step prevede alcuni elementi che in un qualche modo devono essere trattati ci deve essere un'assunzione di responsabilità da parte dell'utente relativamente agli agiti che ha fatto perché se non c'è assunzione di responsabilità dove possiamo lavorare chiaramente quando noi parliamo di comportamenti violenti nove volte su dieci che cosa pensiamo? alla violenza di tipo fisico perché è la più immediata e invece no e invece no aspetta provo a chiederglielo a loro cosa pensano ok perché è un esercizio anche questo certo noi lo chiediamo sempre voi pensate subito alla violenza fisica poi cosa pensate che c'è? quella psicologica ok come la rifertiamo? in che senso? proviamo a pensare quando parliamo di violenza noi abbiamo sempre tanti bei passaggi violenza fisica violenza sessuale queste sono rifertabili sono anche dimostrabili perché tu hai un riferto ospedaliero ma quando parliamo di violenza psicologica come lo rifertiamo? dal punto di vista clinico e psicologico facendo una valutazione facendo una valutazione però è la valutazione molte volte purtroppo parliamo di psicologia e non è così facile mettere agli atti una documentazione di questo tipo molte volte purtroppo questa società fa passare una donna che subisce violenza psicologica non come una vittima ma come una pazza che si inventa le situazioni ancora questo è la nostra cultura il nostro sistema dal punto di vista legislativo noi se io devo dimostrare che ho subito violenza sì sono stato picchiato posso metterlo perché è rifertato documentato ma che io subisco violenza psicologica da 30 anni e ho acquisito magari vari disturbi depressione ansia paura fobie anche tentati suicidi testimoni testimoni utili utilissimi ma solitamente ci sentiamo sempre dire molte volte quando si parla di situazioni maltrattanti come vedete un po' anche nei comunicazioni nei telegiornali ma era un bravo uomo salutava sempre come se riesce noi stiamo lavorando su una linea di frontiera la violenza economica molti uomini ci dicono ma noi non gli facevamo io non gli facevo mancare nulla mia moglie e poi le controllava continuamente lo scontrino dammi lo scontrino dammi gli facevo fare la vita della signora queste sono le frasi dei nostri uomini maltrattanti che arrivano e poi quando una donna si ribella tra virgolette fortunatamente cerca di uscirne perché magari trova un'autonomia riesce a trovare il coraggio di uscire da queste situazioni qui l'uomo che cosa fa? si sente disconfermato nel suo ruolo maschile e agisce di conseguenza nell'unico modo che conosce più comune che è quello della violenza noi stiamo lavorando in un settore che ancora è all'anno zero su queste tematiche ma il problema è anche un problema come diciamo sempre culturale infatti molte volte si passa più il passaggio che chi agisce violenza è un uomo con una patologia psichiatrica no è una patologia culturale questo è l'argomento su cui noi dovremmo affrontare il vero livello di cambiamento che possiamo fare all'interno come educatori come psicologi come uomini cambiare questo tipo di cultura come nasce la violenza quali sono gli strati che portano e che fanno nascere qualcosa di violento la violenza è molto democratica tutti quanti la possiamo possedere e non è tassata se voi andate a prendere un dizionario trovevate come elemento congiunto aggressività sinonimo violenza violenza sinonimo aggressività violenza e aggressività sono sinonimi no l'aggressività è qualcosa che tutti noi possediamo tutti noi se messi davanti a una condizione di pericolo a una guerra a una lotta a qualsiasi cosa abbiamo bisogno della nostra aggressività quindi noi agiamo violenza perché siamo aggressivi di base però è la nostra scelta un uomo agisce violenza perché è aggressivo ma è la sua scelta un conto è metterci la grinta e l'aggressività per fare determinate cose un conto è avere un comportamento violento che è completamente diverso perché il comportamento violento significa ti faccio male significa non ti rispetto significa ti prevarico è proprio anche la confusione che viene fatta dai media utilizzando le parole sbagliate all'interno di questo nel contesto oggi leggevo al gruppo del Chase un articolo dove c'era scritto dopo l'ennesimo raptus dopo l'ennesimo raptus cosa vuol dire? c'è due anni che litigano dopo l'ennesima volta che la picchiano e loro utilizzano il termine raptus è la terminologia è questo che dobbiamo cercare di lavorare sulle parole giuste cominciare a ragionare con chi comunica quindi con i media con i giornalisti ma anche soprattutto con gli organi di magistratura avvocati tu dici il giornalismo clickbait affamato non sta aiutando questa cosa no perché utilizzano delle parole delle terminologie che le prendono dalla psicologia dalla psichiatria perché vogliono giustificare la violenza dell'uomo anche perché raptus mi dà l'idea di una deresponsabilizzazione dell'atto in modo tale ho avuto un raptus esatto non è controllabile non sono io quindi è capitato esatto ma dopo che c'è una situazione ormai paradossale persone che per anni anni abusano di mogli compagni a comportamenti violenti stolchizzanti si dice raptus di follia per vent'anni hai picchiato una persona adesso è raptus di follia mi dispiace ed è proprio anche follia i folli esatto rimanda ed è sempre quello rimanda che cosa che non siamo noi uomini che stiamo facendo qualcosa ma sono loro che sono folli non siamo tutti in una società uomini inseriti all'interno di un sistema ma sono i matti roba tanto è vero che molte volte quando voi sentite una notizia di qualcuno che ha ucciso una donna la prima cosa che si pensa è roba da matti eh no mi dispiace roba da uomini cosa succede nella mente di una persona molto predisposta a questi agiti violenti dal punto di vista proprio clinico solitamente è la paura di perdere il controllo della propria persona anzi dell'altra persona e quindi di una parte di sé non posso più controllare l'altra persona e messo in discussione il mio ruolo affettivamente emotivamente non sono capace di fronteggiare questa situazione agisco fisicamente che il più delle volte si pensa che chi agisce violenza siano gli strati bassi della società in realtà quelli sono i primi che emergono perché magari sono nuclei che sono anche conosciuti dai servizi hanno situazioni un po' di disagio ma quegli altri quelli dell'alto sono quelli che non emergono quasi mai e quando emergono sono i momenti purtroppo paradossalmente in cui c'è una condizione di gravità tale di allarme sociale in cui dici ma allora e comincia a diventare un po' più allora lo possono fare tutti punto interrogativo io volevo chiedere questa cosa volevo dare via questa nuova rubrica questa nuova rubrica che si chiama io e la mia c***o di curiosità una nostra fan ci ha mandato una domanda sapendo che oggi eravate qui al podcast e voleva sapere se c'è una reale correlazione tra i bambini e le bambine che da piccoli tendono ad uccidere animali con l'essere adulti poi violenti allora proviamo a ragionare in termini voi forse non li vedete da vicino io ho visto le microespressioni è stato allora in alcuni casi situazioni di questo tipo potrebbero essere l'uccisione potrebbero sviluppare anche soggetti con patologie quindi patologie psichiali noi stiamo parlando dell'uomo maltrattante in assenza di patologia quindi in tutti i casi quindi può anche aver fatto una condizione di questo tipo potresti averlo fatto anche te qui parlavamo dei gattini non ho più visto uno da quando avete iniziato a parlare voi quindi non vorrei che ci però è una domanda un po' diciamo un po' più complessa un po' più articolata rispetto a questo la risposta è quindi no effettivamente si è accelerata la situazione giuridica nei provvedimenti contro gli uomini violenti è una sensazione percepita o è così? che le cose funzionino meglio tutta una serie di altre robe non mi permetto di rispondere sicuramente da quando è uscita la normativa del codice rosso ci siamo trovati con accessi aumentati questo sì è un qualche cosa è un agire comunque con queste persone non sarebbero venute quindi almeno facciamo facciamo qualche cosa e poi facciamo anche uno screening perché ci sono persone che arrivano come prima cosa dicono io sono qui perché ho patteggiato ma non ho fatto niente quindi motivazione zero a quel punto non inizia neanche il percorso uno dei primi argomenti dico ma scusa un attimo hai patteggiato e non hai fatto niente? se tu ti accusano di rapina furto qualsiasi cosa patteggi no no ah beh ti hanno accusato invece di violenza in ambito familiare o con una donna di stalk o un altro e l'hai patteggiata quindi hai accettato di essere considerata quindi dobbiamo lavorare su questo magari sembra che sia più accettato il fatto di essere accusato di violenza piuttosto di essere accusato di furto ci sono dei dati che riportano il fatto che nel 2023 le generazioni più giovani siano più tolleranti agli agiti diciamo tra virgolette violenti all'interno di un rapporto rispetto a quelle più vecchie come ricerca non la conosco è troppo fresca l'unica riflessione che mi viene spontanea da fare è che tutte le azioni che vengono fatte non da noi direttamente ma dagli altri i nostri due psicologi che lavorano soprattutto con interventi nelle scuole beh comunque viene fuori il fatto che fra ragazzi si attivano dei comportamenti che vengono completamente sottovalutati dal punto di vista della violenza del controllo nei confronti dell'eventuale ragazza forse sia un po' per l'età croccante diciamo questo c'è questo lo posso dire senza problemi un'opinione sul caso di Giulia Cecchettin e come mai magari questa esplosione mediatica legata a questo caso rispetto a altri l'esplosione mediatica ha solo il risultato positivo che pone l'accento su un fenomeno che può essere più o meno riconosciuto perché purtroppo è brutto dirlo ci sono centinaia di femminicidi ce n'è qualcuno che suscita maggiore scalpore e in quel momento si accende un filino di più il faro poi gradualmente scema magari c'è maggiore consapevolezza nelle donne nelle ragazzine della pericolosità di certi tipi di rapporti però poi col tempo forse sarà anche il consumo il sistema televisivo e altro dopo questo effetto si viene a perdere e deve succedere purtroppo non si sa più quanti altri femminicidi prima che si riaccenda questa è un po' la condizione che mi preoccupa per quello che è successo a Palermo adesso si è riaperto di nuovo il capitolo delle sette tutto quello che succede viene fuori infatti la cecchettina adesso si è messa da parte hanno cominciato di nuovo a ragionare sulle sette perché quello che è successo non è mai colpa della persona esatto e quindi su questo andiamo sempre a spostare sempre di più è giornalistico è uso consumo io non so dovremmo fare veramente anche sui giornalisti una bella formazione sulle terminologie su quello che si deve è utile faccio sempre un po' di titoli di giornale tutte le volte che succede un femminicidio la prima cosa non è che mettono subito è morta un'altra donna quello che dicono è descrivono la persona magari mettono l'etnia e quindi cos'è il problema noi italiani italici maschi se è stato un megribino vedete questi arabi uccidono quindi sposti di nuovo l'asse dici che non è questione degli uomini è questione delle etnie e quindi cavalchi quel cavallo lì questo è pericolosissimo è stato ma questo è successo nei soborghi di Napoli e allora dice succede a Napoli non vuoi che non succeda a Napoli in Trentino non succederebbe mai vado a prendere il mio cavallo nella stalla si chiama Stigma e lo cavalco come una bestia e lo cavalchi e lo cavalchi e vai avanti in chiusura consigli alle donne come stavamo dicendo prima di cosa possono tenere d'occhio cosa possono osservare qualunque segnale che può sembrare di controllo di gelosia o tutta una serie di cose simili in questo senso addrizzare subito le antenne non sottovalutarle non pensare che per forza che siano segnali d'amore incominciamo a vederli con un'ottica un pochettino diversa poi magari sono veramente segnali d'amore ok siamo a posto però molte volte nascondono i primi elementi che se lasciati andare poi pian pianino il controllo il potere dell'uomo con cui stai prende sempre di più sopravvento e ti trovi ingabbiato grazie grazie mille grazie 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 grazie